Dottor Cian, buonasera e grazie per essere qui con noi. Noi siamo tutti quelli lì dietro, c'è un po' di gente, non saprei definire se la gente è quella in piedi o quella sdraiata, però forse oltre come oltre quella sdraiata, ma va bene, di questo parleremo dopo. Intanto, per quei pochissimi, tre o quattro che non le conoscono, vorrei dire che il professor Tianti, che è qui davanti a noi, ha un escurso straordinario, anche perché è veramente una mente tremendamente versatile. Pensate che ha cominciato disegnando fumetti addirittura, Ken Parker, che mi piaceva tantissimo, e poi ha cominciato a dedicarsi alla comunicazione e da lì ha scoperto tutta una serie di mestieri che potevano portarlo verso quello che è. E' passato attraverso la formazione, formazione del fisico, dei nostri muscoli, comprendendo ciò che accadeva al nostro interno, ha scritto dei libri. E infine oggi è qui, potrei parlare per un'ora, ma è qui per deliziarci su alcuni argomenti dei quali i media maestri purtroppo, o per fortuna, non lo so ancora, per fortuna per me, perché se no io non avrei un lavoro. I media maestri non parlano. Dottor Tianti, se non me lo consente, le rivolgo già alla prima domanda. Prego, prego. Bene. Allora, qui dietro ci sono dei mandriani. Mi dite per favore qual è l'origine e l'evoluzione dei mandriani. Cioè, chi sono in realtà? Dove nascono? E come prendono? In sintesi si tratta di una linea di sangue, viene definito scientificamente un classico, di un cluster genetico, dalle origini addirittura preistoriche. Si è fatta molta confusione su questa linea di sangue, perché avevamo delle tracce storiche, delle tracce antropologiche, ma mancava ancora dei dettagli, che sono quelli che ci ha dato il DNA di questi signori, e più esattamente il DNA mitocondriale. Lei sa che il DNA mitocondriale viene trasmesso esclusivamente dalla madre, non si mescola con quello paterno. Per cui, in questo modo, su tutti i viventi, non solo sugli esseri umani, si riesce a risalire all'origine, quantomeno, della specie, se non della razza. Razza è una parola che non si dovrebbe usare. Del genere, diciamo. Allora, questa linea di sangue, abbiamo scoperto di recente, io questi studi scientifici li ho pubblicati nell'ultimo libro, Ade, la sinagoga di Satana, ha origine in area mediterranea circa 20.000 anni fa da quattro femmine principali fondatrici della linea. Essendo una linea di sangue oltretutto endogamica, cioè si sposano tutti fra di loro, e matrilineare per cui la discendenza viene data dalla madre, è stato ancora più facile questo compito, e così si è riusciti a identificarli. L'origine è nell'area mediterranea, probabilmente in Francia o in Italia, quindi non vengono dalla Mesopotamia, quindi non sono semiti, quindi non sono ebrei. Questo va subito chiarito, perché sa meglio di me come l'antisemitismo oramai sia l'accusa, diciamo, più ricorrente per chiunque si azzarda solamente a criticare, no? Quindi non si parla di ebrei, si parla di una linea di sangue che origina nel Mediterraneo. Tant'è vero che l'apostolo Giovanni, nelle lettere dell'Apocalisse, li nomina, e li nomina come falsi ebrei. Essi si dicono giudei, ma mentiscono. Queste sono le parole letterali di Giovanni l'Evangelista. Quando si rivolge ai vescovi dell'Anatolia per rassicurarli, perché sono perseguitati. Siamo subito dopo la morte di Cristo, lei mi capisce, no? E le persecuzioni dopo Cristo sono subito continuate, ma non le hanno fatte i Romani, non le ha fatte l'Impero, che si disinteressava completamente di quello che accadeva in questa lontana periferia. Erano i sommi sacerdoti giudaici che perseguitavano i primi cristiani. Tant'è vero che Paolo l'Evangelista, si dice, no? Che era cittadino romano di origine giudea e la sua conversione, quando avviene? Avviene quando lui si sta recando a perseguitare i primi cristiani. E lì poi c'è il ribaltamento del fronte. Quindi si va di bene, si parla di soggetti molto particolari che alla luce dei fatti storici e della cronaca attuale, diciamo, hanno in mano le redini praticamente di tutto il pianeta. Ed hanno delle caratteristiche peculiari, genetiche straordinarie, dovute a mutazioni appunto genetiche, che li rendono mediamente superiori a noi, sia come intelligenza che come longevità. E io li ho definiti super sapiens, proprio per questo. E sono umani come noi, non è che sono alieni, no? Ci mancherebbe. Però hanno queste caratteristiche, in particolare un quoziente intellettivo molto, molto superiore al nostro. Tant'è vero, si vincono quasi tutti i premi Nobel, pur essendo una minoranza ristretta, nella finanza, nell'economia, il 40% dei premi Nobel vanno a questa linea di sangue. E sono tutte persone che vivono mediamente fino a cent'anni e oltre. Potrei citarle tanti nomi, ma insomma, Rita Levi Montalcini, per esempio, che tutti conoscono, è italiana, appartiene a quella linea di sangue, è morta a 103 anni. E così via. Tantissimi, ma anche persone famose, attori, anche in altri campi, anche in altri settori, appartengono alla linea di sangue degli Ashkenaziti, che si chiamano Ashkenaziti praticamente dal basso medioevo in poi, perché si erano stanziati, diciamo, nei paesi dell'est europeo, e da lì poi si spostarono verso la Svizzera, la Francia, l'Alto Reno, e così via, portandosi dietro questo soprannome, Ashkuz, Ashkuz vuol dire tedesco, praticamente, e da lì poi hanno iniziato la storia moderna, diciamo, dell'Europa, che hanno iniziato allora. Mi sembra anche di capire che è da lì che parte una sorta di quello che vediamo rappresentato dietro le mie spalle, dominazione del Grete. Ma guardi, questo l'hanno sempre fatto. Allora, se noi si va a vedere a ritroso l'inizio, perché si dovrebbe fare un discorso un po' lungo e complesso, cerco di sintetizzarlo, praticamente l'Homo sapiens, cosiddetta, ha un'origine abbastanza recente, si parla di 200-250 mila anni fa. Fino a 12-15 mila anni fa abbiamo vissuto, come tutti gli altri animali, allo stato brado, cioè piccoli branchi che vivevano di caccia e di raccolta. Poi a un certo punto c'è stata la cosiddetta rivoluzione agricola, la transizione neolitica, che ha trasformato completamente la nostra economia. Da cacciatori siamo diventati agricoltori. Di conseguenza è cambiata la società, perché la società va sempre dietro all'economia. E si è instaurato un tipo di società piramidale, come quella che conosciamo oggi, per cui c'è un re, un principe, un presidente, chiamiamolo come si vuole, poi tutta una serie di caste, che oggi si chiamano classi sociali, ma in realtà sono caste, che hanno vari ruoli, e così via. Ed è un passaggio da un'economia di sussistenza, che è sintonica con la natura, con l'ambiente, a un'economia di produzione, che è un'economia predatoria, è predatoria sull'ambiente, prima di tutto, e lo sappiamo bene, lo tocchiamo con mano, e soprattutto è predatoria con l'essere umano, perché l'essere umano diviene uno strumento di lavoro, che produce per altri, per il profitto di altri, e non più per se stesso. Allora, tornando a noi, quando noi andiamo a osservare il sorgere delle prime protociviltà agricole, per esempio i natuffiani del Libano, ci rendiamo conto che questi primi passi, prima di tutto, sono stati provocati, sono stati indotti, non sono stati spontanei. E poi se la nostra linea di sangue ha origine mediterranea, quella era una delle prime zone dove loro potevano arrivare. Poi si sono spostati sui Fenici, si sono spostati su tutte le, diciamo, le civiltà cananee della regione, Cipro, Rodi e così via. E poi naturalmente hanno fatto il passo, e di questo abbiamo traccia storica nella Bibbia, nel popolo giudeo, ai tempi dell'esodo dall'Egitto, ma già da prima. Anche lì ci sarebbe tutta una lunga storia, cioè non è che gli ebrei erano poveri schiavi in Egitto e li hanno cacciati. Erano una cassa ben precisa, arrivata, che aveva un potere enorme, enorme, addirittura cercavano di prendere il potere al faraone per quel motivo che poi se ne è libera. Queste sono tutte altre storie. Poi il loro iter dalla Giudea, loro praticamente diventano una cassa sacerdotale dei giudei, già dai tempi di Mosè, e li ritroviamo mille anni dopo col grande sacerdote, col sommo sacerdote Sadduk, da cui verrà la casta dei sacerdoti Sadducei, che rimarranno padroni incontestati della Palestina fino all'avvento dei Romani, fino alla seconda distruzione del tempo di Gerusalemme. A quel punto, grazie agli uffici di uno di loro che si chiamava Giuseppe di Mattia, detto Giuseppe Flavio, una parte di questi sommi sacerdoti se ne vanno nell'impero romano, con il denaro, con la ricchezza del Tempio, si comprano la cittadinanza romana e da lì inizia la storia più recente. Si sposteranno a Costantinopoli quando l'impero romano d'Occidente andrà in decadenza. Da Costantinopoli poi saranno chiamati nella Cazzaria, quella regione fra il Mar Caspi e il Mar Nero, per motivi geopolitici, perché il Khan di questo canato, il re di questo canato, pressato da nord dai cristiani e pressato dal sud dai musulmani, cercava una sua neutralità. Dice, allora io faccio convertire tutta la popolazione all'ebraismo, apro delle sinagoghe e si diventa uno stato giudaico per cui saremo, e infatti per due o trecento anni rimangono praticamente tranquilli. Poi ci sarà l'invasione dei russi da est, viene spazzato via il canato e questi signori si sposteranno nella Russia, nella Polonia, nell'est dell'Europa per riprendere il momento che le accennavo prima, per riprendere il filo che le dicevo prima. Ma loro hanno sempre seguito tutte le grandi civiltà fino ad adesso e adesso sono gravemente in crisi perché l'ultimo loro impero che è quello anglo-americano mostra tutti i segni del declino e siamo prossimi al crollo e obiettivamente hanno perso quella supremazia sul pianeta che loro fino a qualche anno fa pensavano ancora di avere e tutte le guerre che stanno succedendo insomma un po' ne sono la manifestazione di questa crisi. Le armi di questa linea di sangue sono sempre state la loro straordinaria intelligenza e in modo particolare il controllo del debito e del denaro e l'usura. Su quello hanno vissuto. Su quello hanno vissuto sempre e chiaramente poi nella storia più recente prestando denaro a re e imperatori che ne aveva necessità per le loro guerre hanno preso praticamente in mano il potere e si arriva in questo modo ai giorni nostri nei tempi nostri ma l'obiettivo loro è scritto in un libro perché poi queste cose vengono dichiarate non è che sono complottismi nascosti di sa cosa no c'è un libro di Jacques Attali Jacques Attali è un finanziere francese oramai molto anziano lui è sefardita in realtà non è che nazita che è il creatore del partito a marche ed è il tutor di Macron tanto per capirsi dell'attuale presidente francese che lo dice esplicitamente dice noi dove abbiamo visto una possibilità di sviluppo di potenza di ricchezza di prestigio e di cultura ci siamo sempre andati e quindi si spostano sono stati nelle nostre repubbliche marinare sono state nelle repubbliche ansiatiche poi si sono spostati in Inghilterra quando è iniziato l'impero britannico quando l'impero britannico ha cominciato a vacillare si sono spostati negli Stati Uniti e così via nella storia che oramai tutti si conosce bene però ci sono sempre loro dietro queste cose ma non solo a livello economico finanziario ma anche culturale anche a livello sociale cioè indirizzano la madre anche dal punto di vista proprio dei comportamenti e oggi lo tocchiamo con mano quando noi facevamo quella considerazione sulla capacità d'attenzione delle persone praticamente si è distrutta la consapevolezza del genere umano e lo sarà sempre di più quindi la situazione è questa io non voglio farla troppo lunga mi fermo qua e guardi ci sono a volte delle interviste che mi danno l'opportunità di incontrare delle persone con le quali passerei un tempo infinito purtroppo devo comprimermi all'interno dei 20 minuti e questo è questo è veramente oggi in modo particolare qui con lei è qualcosa che mi addolora perché mi rendo conto di avere un interlocutore che mi sta seducendo con il suo racconto anche perché questi anni ho visto tante dita puntate verso una famiglia prevalentemente Rockefeller ma qui andiamo oltre andiamo molto più dietro e cominciamo a capire da dove arriva questa roba qua io avrei avuto cento domande da farle ma il tempo stringe e allora abbiamo accennato la guerra abbiamo parlato della Palestina abbiamo parlato ecco io vorrei un suo parere su quale potrebbe essere un epilogo delle due guerre così definite per procura vengono utilizzate per determinati scopi da persone che però non sono presenti all'interno cioè va bene ma di questo parleremo eventualmente in un altro momento guerra e procura Ucraina e Palestina secondo lei quale potrebbe essere l'epilogo se ce ne sarà uno io capito qui esprimo solo la mia opinione quando è finito l'ordine bipolare nel mondo con la caduta dell'impero sovietico nel 91 92 l'impero anglo americano ha lanciato la parola d'ordine nuovo ordine mondiale noi siamo il nuovo ordine mondiale la globalizzazione e così via e per un decennio almeno non si sono convinti di essere i padroni del pianeta il loro esercito che si chiama NATO chiaramente si è allargato a sempre più paesi e si è andato a avvicinare sempre di più in questo allargamento alla Russia attuale che è gestita da un signore che insomma viene dai servizi secreti quindi tanto ingenuo non deve essere poi si giudica come si vuole no? si è reso benissimo conto delle manovre come abbia a dire Papa Francesco l'anno scorso dice gli sono andato ad abbaiare davanti alla porta di casa che questo che doveva fare e adesso con la Finlandia è cronaca di queste ore si sa bene a che punto siamo arrivati però al di là di questo loro non si sono forse pienamente resi conto che questo ordine che avevano instaurato non esiste più e siamo in un ordine multipolare in cui c'è una serie di imperi di potenze del passato tutte dotate di armi atomiche che si stanno riaffacciando alla ribalta e che vogliono partecipare al banchetto guardi io non sono cinico io sono una persona di grossi sentimenti però bisogna rendersi conto della realtà delle cose su questo minuscolo pianeta che è un granello di sabbia nell'universo ci sono otto miliardi di esseri umani che è un numero completamente al di fuori di qualunque ordine naturale cioè miliardi sono le formiche ma le formiche sono un centimetro e pesano un grammo noi consumiamo e sporchiamo in proporzione alla nostra stazza biologica questa è fuori discussione la capacità di sostentare otto miliardi di persone sta avvenendo meno i suoli coltivabili oramai sono esauriti la gente se lo deve mettere in testa quello che rimane sono un trenta per cento di foreste distruggiamo anche quelle e un trenta quaranta per cento di deserti o di situazioni geografiche in cui non si riesce a coltivare sopra i mille metri il grano non si coltiva purtroppo bisogna rimanere in quella fascia più bassa quindi il problema adesso è quello del cibo nel mondo e le guerre si fanno essenzialmente per il cibo per le risorse poi si possa mascherare di tanti belli ideali di tante altre motivazioni la Russia perché è andata e si è impelagata in questa guerra con l'Ucraina perché ha bisogno di uno sbocco a mare nel Mediterraneo perché dal mare di Azov deve passare al Mar Nero e poi nel Mediterraneo nelle rotte commerciali e chiaramente si è presa prima la Crimea ma se sulla costa opposta ci sta la Nato e poi mica la fanno passare con le navi mercantili quindi deve prendere il Donbass deve prendere quelle regione Odessa finché non ha preso Odessa la Russia non si ferma questo è chiaro ma glielo dico da ignorante non da persona che si interessa di geopolitica quindi lì si andrà avanti finché qualcuno non sarà abbastanza pazzo da premere il pulsante della bomba atomica perché adesso la bomba atomica ce l'hanno in tanti non è che ce l'hanno stato solo e si sa bene le conseguenze e per quanto riguarda l'altro conflitto il conflitto palestinese praticamente lì l'obiettivo è chiaro lo sterminio della popolazione palestinese deve essere eliminata quello è uno stato satellite è un'altra America diciamo dove dal 1917 comandano esclusivamente loro però è uno stato multietnico è uno stato dove ci sono tante diciamo tipologie anche religiose di ebrei veri ci sono gli arabi e quindi è molto difficile da controllare da governare loro stanno cercando di prendersi dal Giordano fino alla costa del Mediterraneo tutto il paese in maniera esclusiva e lo stanno facendo in una maniera spietata la quale il mondo cosiddetto civilizzato non vuole perché non vuole se volesse lo potrebbe fare non vuole fermarli è tutta una muina affermatevi per carità e però non fanno niente di concreto e anche quella lì è una bella patata bollente perché c'è accanto confinante l'Iran che ha la bomba atomica quindi vedete bene che la situazione è tutt'altro che tranquilla io mi meraviglio guardi che ho moltissimi rapporti diciamo a livello di persone ma proprio persone prese persone comuni come me persone prese dalla strada anche tramite i social naturalmente è sempre mi stupisco che non si rendono conto di quello che sta succedendo di quello che stiamo vivendo continuano a folleggiare con le loro scemenze di ogni genere inutile faccia degli esempi tanto ce l'abbiamo tutti in mente però non vogliono capire la criticità di questo momento ma ci rendiamo conto che se si decide di mandare l'esercito italiano in Ucraina oltre che essere già nemico della Russia a livello nominale lo diventiamo a livello fattuale e siamo subito un bersaglio dei missili russi e poi quanti soldati italiani io ci pensavo oggi ma quanti soldati italiani vorranno andare a farsi ammazzare per gli Stati Uniti in quella terra qui si parla comunque di centinaia di migliaia di morti già adesso non è che siccome non ci fanno vedere le immagini le persone non muoiono c'è una carneficina anche in Ucraina e quindi no però niente si continua con le scemenze di tutti i giorni e questo è terrificante e qui mi faccia dire per cortesia perché questo ce l'ho proprio sull'anima noi dobbiamo tenere conto della demografia italiana siamo italiani siamo nati in Italia siamo un paese multietnico in Italia non c'è un popolo ce ne sono 5 6 7 8 ci sono 10 lingue diverse in Italia se lei mette un veneto che parla in dialetto a parlare con un siciliano sempre in dialetto non si capiscono è più facile capiscono un francese piuttosto che un veneto quindi noi siamo multietnici e quindi non abbiamo una unità non siamo una nazione siamo semplicemente uno stato uno stato molto difficile da governare che attualmente a livello demografico è composto così glielo dico chiaro e tondo c'è un 25% della popolazione over 65 con 4 patologie croniche che hanno un piede nella fossa e di tutto si preoccupano fuorché della politica del futuro del paese poi c'è un 25% di under 35 che sono già stati preformattati dal sistema e quindi sono dei utili idioti si dice così quelli di loro che hanno un certo livello di consapevolezza si parla di un milione e mezzo se ne sono già andati dall'Italia cioè le menti più brillanti le menti giovani italiane se ne sono andati perché hanno visto che non c'è futuro e poi non voglio essere spietato noi abbiamo 3 milioni e mezzo di persone che lavorano per la pubblica amministrazione e un milione e mezzo che lavora per la politica quindi sono 5 milioni di persone facciamo il conto alle famiglie sono almeno 10 milioni di italiani che mangiano sullo Stato e che mai alzeranno la testa per criticare lo Stato perché come si è sempre detto Franza o Spagna purché si mangia e loro dipendono e quindi quindi non abbiamo una possibilità noi da nessun punto di vista di reagire a questa situazione io mi ci sto scervellando da anni su questo tema ma non vedo una soluzione siamo a 40 secondi dalla fine io la ringrazio innanzitutto di questo bellissimo intervento vorrei salutarla con un arrivederci a una prossima puntata se le farà piacere perché lei ha tante cose da dire e io ho tanta voglia da ascoltarla per ora io le dico grazie infinite e complimenti buonasera sono sempre disponibile quando vuole grazie infinite